Aggredito Andrea Agostinelli, presidente dell'autorità portuale dei mari di Reno e Ionio. Secondo gli ultimi dettagli emersi, l'ammiraglio si trovava il 25 di aprile a bordo di un traghetto diretto in Calabria dalla Sicilia, quando due soggetti gli si sono avvicinati intimandogli di non pronunciare più il nome di una famiglia dell'area di Gioia Tauro. Sono seguiti poi strattoni e mani al collo, davanti agli occhi increduli dei centinaia di testimoni. Autore del gesto si è poi rivelato essere Salvatore Zito, commerciante di 41 anni che si è presentato spontaneamente ai carabinieri del gruppo di Gioia Tauro. L'uomo, di solito persona molto mite, si porta da anni addosso il dolore lancinante per la perdita del cognato Agostino Filandro, morto nel 2019 mentre si trovava a bordo della sua imbarcazione da riporto a causa del crollo del braccio di una gruob soleta. Il commerciante si è detto deluso dalla giustizia che pochi giorni fa ha rinviato a giudizio per concorso in omicidio colposo proprio Agostinelli. Zito poi si è detto pentito del gesto, dettato dalla rabbia e dal dolore del momento.